È molto importante essere presenti sul territorio. Dal 1 luglio su Arezzo abbiamo vinto la gara delle tutele graduali e quindi 20.000 famiglie sono entrate in fornitura con Eracom e proprio per questo abbiamo deciso già dal 1 luglio di essere presenti qui. Un punto di riferimento per le famiglie Aretine a cui dallo scorso 1 luglio Eracom ha iniziato a fornire energia elettrica sul mercato a tutele graduali. È stato così inaugurato lo sportello clienti in via Petrarca 2 ad Arezzo. L'acquirente unico ha definito dei lotti in tutta Italia per questi clienti definiti non vulnerabili e sono stati assegnati questi lotti su gara e quindi per tre anni i clienti potranno soffruire ancora di un prezzo che è stato il prezzo definito dalla gara per poi passare al mercato libero. Il mercato libero, il cliente può decidere di entrarci in qualsiasi momento, ha ancora questi tre anni di servizio di tutele graduali che appunto per Arezzo è gestito da Eracom. Il passaggio è stato automatico, sicuramente senza soluzione di continuità, il cliente non deve fare assolutamente niente però il negozio è per noi l'opportunità di dare anche informazioni a quei clienti che sicuramente non avevano magari fatto una scelta del mercato libero quindi sono magari fermi da anni nel vecchio servizio tutelato e se hanno bisogno, vedendosi cambiare la bolletta e magari non erano informati, magari non hanno seguito troppo, se hanno bisogno ci trovano qui, hanno tutte le possibilità di informarsi e anche magari la possibilità di valutare cosa propone il mercato libero. Il nuovo servizio accompagnerà i cittadini e fornirà anche supporto per soluzioni di efficienza energetica e decarbonizzazione dei consumi. Il mercato libero diciamo consente di aggiungere delle caratteristiche all'offerta di energia. Faccio un esempio, una su tutte, è quella di poter scegliere un'energia verde da fonti rinnovabili, cosa che invece nel servizio di tutelare graduali non c'è, ma anche altre caratteristiche come la monoraria oppure la possibilità di scegliere un prezzo fisso. Lo sportello Era di Arezzo sarà aperto da lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. Un servizio importante che con oggi ha questa nuova sede finalmente inaugurata e che sarà un servizio di prossimità per i clienti cittadini di Arezzo che avranno un punto fisico dove rivolgerci. Sappiamo quanto a oggi la tecnologia e l'informatica vanno avanti, ma soprattutto quanto sia importante per gli utenti avere un punto dove poter accedere, dove poter confrontarsi e dove poter avere risposte certe. Quindi con oggi diamo una risposta importante per i nostri utenti nella nostra città.